L'informazione in 60 secondi. La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso dell'elta medio per vento forte e mare agitato dalle 6 di domani venerdì fino alle 6 di sabato mattina. I carabinieri hanno notificato la sospensione della licenza al titolare di una discoteca isolana per somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni. Domani, nell'ambito della giornata di sensibilizzazione della prevenzione oncologica, si terrà il Forio Prevention Day al Cinema delle Vittorie e si apre domattina all'hotel Referdinando di Ischia la sesta edizione del congresso Ischia Cardiologia, appuntamento per l'attività formativa e scientifica medica sull'isola. La sanità pubblica procida non soddisfa più i cittadini. Il gruppo di minoranza insieme ad un covitato di cittadini hanno presentato una diffida al TAR affinché vigili sulla corretta applicazione di quanto dovuto. Trasporti marittimi dal prossimo 6 novembre saranno sospese le corse Medmar su Napoli. L'Unione delle Associazioni Sindacali di Categoria dell'Isola ha chiesto ai sindaci di intervenire presso la Regione Campania per scongiurare questa sospensione. Prossimo appuntamento alle 13.